L'apriamo un po' di più Ben ritrovati di nuovo su ReviewU Oggi vado a recensire insieme a voi questo attacco per bomboletta da campeggio ideale per chi va a fare trekking Si tratta del Twister Plus PZ della Campingas 2900 Watt Abbiamo quindi un prodotto che può essere abbinato con una bomboletta Campingas CV300 Plus oppure CV470 Plus Mi raccomando non tutte le bombolette sono ovviamente compatibili Prima di iniziare le recensioni vi invito ad iscrivervi perché sto facendo diverse recensioni riguardo articoli del camping trekking ma anche recensioni di altro tipo quindi iscrivetevi, commentate e fatevi sapere la vostra opinione Link in descrizione di questo prodotto nello specifico Plus PZ ma vi lascio anche link della bomboletta compatibile CV300 che non arriva comprensiva di questo prodotto quindi è da prendere a parte 5 euro comunque e allora la differenza tra il Plus PZ e il Plus è che questo qua ha il bottoncino di accensione quindi mi vado ad avvicinare un attimo come vedete non c'è bisogno di un fiammifero o di un accendino mentre nel Plus dovete appunto usare l'accendino il prezzo cambia di poco siamo comunque sui 30 euro abbiamo allora una durata della bomboletta di 1 ora e 10 quindi farete circa 5-6 pasti dipende poi quanto quanta potenza utilizzate e in quanto diciamo cosa andate a cucinare quindi e poi abbiamo un litro che si va a cuocere in 3 minuti e 45 secondi quindi comunque una prestazione abbastanza ottimale 260 grammi il peso quindi anche qui un peso davvero contenuto che poi con 240 grammi di bomboletta si arriva all'incirca 500 grammi quindi anzi 500 grammi precisi 240 più 260 il fatto appunto di andare intanto vado ad aprirlo di andare a comprare questo prodotto è sicuramente il peso ma anche le dimensioni contenute innanzitutto arriva con il foglietto illustrativo vedete questo qua è il modello che ho io questo è quello Plus senza tasso di accensione e mi piace anche il fatto che si possa andare a riporre e a quindi conservare lontano magari da umidità eccetera in questa custodia di plastica ora vediamo se ci riesco ad aprirla un po' di difficoltà è veramente chiusa bene quindi una volta che lo posizionate sicuramente non fa fatica ad aprirsi ok eccolo qua questa è un'etichetta che si può anche togliere come vedete le dimensioni sono contenute ma andiamo a vedere insieme le dimensioni abbiamo una dimensione di 9 cm la scatoletta è di all'incirca andiamo a vedere 12 cm per 11 cm per diciamo 4 cm di spessore questo so che magari può essere un po' eccessivo per chi lo sta guardando e che magari fa campeggio non gli interessa niente però magari chi va a fare escursioni e si porta lo zaino dietro è importante anche sapere un po' le dimensioni e i pesi e questo secondo me è contenuto comunque allora innanzitutto qua si va a ruotare la rotellina sul meno quindi assicuratevi che la rotellina sia girata sul meno prima di andarlo a posizionare sulla bombola e si va secondo per secondo step ad aprire le varie alette vedete che restano bloccate vediamo se magari c'è qualche dato sul libretto di istruzioni che posso lasciarvi abbiamo una portata di 211 grammi all'ora 2,9 kW iniettore e pressione diretta butano ovviamente l'utilizzazione fa vedere anche qua nelle istruzioni come posizionarle tutto ma vi risparmio di leggervi queste cose e vi dico direttamente io come si fa andiamo a rimuovere la linguetta verde che fa da tappo mi raccomando questa qua conservatela che dopo quando andate a finire l'operazione di cottura richiudete la vostra bomboletta e la riponete nel vostro zaino allora qua abbiamo appunto le tre alette aperte andiamo a posizionare la parte del fornelletto qua in alto in corrispondenza qua del buco e facciamo una pressione finché sentiamo un click non per niente si dice qua easy click allora mi raccomando assicuratevi sempre che sia tutto girato verso il meno nella rotellina perché altrimenti se no potrebbe esserci una fuoriuscita comunque di gas quindi una volta che avete fatto la pressione e sentite click girate il fornelletto verso destra quindi in una situazione in un senso orario finché non sentite che fa proprio un attrito perché non si può più girare ma non sforzatelo troppo per non andare a rompere magari la rotellina dentro quindi adesso vedete è bello fermo cosa fate andate a aprire ovviamente girare la valvola sul più finché sentite la fuoriuscita di gas andate veramente piano ok la sentite forse e poi col tasto rosso qua schiacciate e farà la scintilla apriamo un po' di più eccolo qua non so se si riesce a vedere la fiamma è veramente quasi impercettibile vabbè che adesso è giorno però vi assicuro che fa caldo molto caldo quando volete terminare la vostra cottura andate semplicemente a girare come per il fornello a gas di casa andate a girare tutto sul meno aspettate che si raffreddi perché adesso qua non sembra ma scotto soprattutto questa parte qua e poi andate a fare a girare in senso opposto la vostra valvola il vostro attacco del foranino quindi in questa direzione sentite che è venuto via e poi questo lo lasciate raffreddare senza bruciarvi e questo qua il tappo lo riponete di nuovo finché fa click vi volevo fare vedere tra l'altro che appunto potete utilizzarlo mettendo la mochina del caffè questa qua è una mocca bialetti farò la recensione la trovate vi lascio magari anche i link in descrizione comoda una tazza ma in verità due caffè ne escono anche fuori si mette qua e ci sta vedete senza problemi tra l'altro le alette hanno anche queste zigrinature per un grip maggiore come anche questa tazzina diciamo scodelina che ho acquistato sempre su amazon e che vi lascio anche questa in descrizione e trovate una recensione che ho fatto è leggerissima e vi permette anche qua di appoggiarla senza problemi come vedete si adatta e qua anche per un tè eccetera ma anche una pentola più grande come questa da 16-14 adesso non ricordo trovate anche qua la recensione e il link di amazon come vedete ci sta senza problemi concludo la recensione dicendovi che secondo me conviene comprare il modello PZ perché c'è anche il bottone d'accensione poi ovviamente io ho un accendino e me lo porterò comunque dietro perché non si sa mai però è comunque un modello che secondo me è veramente compatto utile e si adatta alla cottura di qualsiasi cosa quindi avete visto la moka o i vari pentolini link in descrizione di amazon vi aspetto alla prossima review